Buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. Traffico rallentato, il traffico intenso sulla variante di Valico tra il Bivio A1 e Badia, la direzione è quella per Firenze. Ralentamenti anche in A11 per un veicolo fermo tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Personale su strada, siamo sulla Firenze Pisa Livorno a Monterupo Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordo sulla A1 per lavori di manutenzione dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 agosto sarà chiusa la stazione di Calenzano in entrata e in uscita. Ricordo che da domani, lunedì 26 agosto, a Firenze sono in programma i lavori per la posa dei cavi della linea di contatto in Viale Don Minzoni. Le operazioni sono state programmate in orario notturno 22.05 con l'istituzione di divieti momentanei. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio a dopo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!